I contagi in Irpinia sfiorano di nuovo 491 per le sattezze e riesplode il focolaio a Montoro, 12 casi. Qui il sindaco Giacquinto, in previsione del ritorno tra i banchi delle media, ha disposto per domani un drive-in nell'area PIP di Misciano per personale, docente e non. Il bollettino restituisce 8 nuovi contagi ad Avellino e 8 anche nel piccolo centro di Vallata. Ma sono le scuole in particolare nel caos. Safforino, dove i positivi di oggi sono 7, tutto è nato da un'insegnante contagiata e le scuole resteranno chiuse fino a sabato prossimo. Per fortuna sono tutti rientrati in contatti di precedenti positivi, però la situazione è un po' anomala, c'è preoccupazione in paese, quindi abbiamo deciso di chiudere le scuole per una settimana. Valutiamo come vanno le cose e poi si decide la prossima settimana. Nel capoluogo regna la psicosi tra i genitori dopo i casi positivi alla perna di una mamma e di un bimbo e la preside della regina Margherita è stata costretta a smentire voci analoghe circolate anche sul suo istituto. La psicosi che si è diffusa è naturale. Psicosi assolutamente no, perché comunque fondamentalmente con la prevenzione diciamo si può ridurre il contagio, però io sono per chiuderle. La risposta non è semplice, perché c'è da contemperare l'esigenza dell'istruzione con quella della salute. Al Frangipane è morta un 82enne di Calabritto e intanto i medici hanno chiesto al governatore De Luca tramite un incontro con il consigliere Petitto di essere coinvolti direttamente nella somministrazione dei vaccini. Cosa estremamente necessaria se vogliamo raggiungere dei numeri importanti in brevissimo tempo.